Vi presentiamo la nuova serie Compair DX, innovativi compressori d'aria rotativi a vite oil free da 200 a 355 kW. Forniscono pressioni nominali da 4 a 10 bar con portate comprese tra 11,4 e 53,4 m3 al minuto. Una serie di compressori raffreddati ad acqua o ad aria a velocità fissa o variabile che offrono la migliore efficienza della categoria in un involucro moderno ed elegante. Grazie alla certificazione classe 0 oil free, la serie DX elimina virtualmente qualsiasi rischio di contaminazione del processo produttivo, perfetta per i settori in cui l'aria compressa oil free è un requisito fondamentale. Il cuore della serie DX è il suo nuovo Airend all'avanguardia a due stadi, basato sulla collaudata tecnologia Compair ma riprogettato per la massima efficienza con ingresso radiale ottimizzato per ridurre le perdite di carico nel pacchetto, cuscinetti sovradimensionati per una durata eccezionale, ingranaggi lavorati di precisione e rotori in acciaio inox ultra rivestiti, camere di compressione che offrono un'efficienza e un'affidabilità eccezionali e con una camicia di raffreddamento ottimizzata che circonda entrambi gli stadi, assicurando basse temperature dell'area del rotore e migliorando notevolmente l'efficienza complessiva. Il risultato è un pacchetto che offre fino all'8% di portata in più e fino al 7% di energia in meno rispetto agli standard del settore. La gamma standard è stata progettata all'insegna della sostenibilità e dell'efficienza energetica, tuttavia è possibile ottenere un risparmio ancora maggiore scegliendo la versione RS in cui la velocità dell'irend è regolata dinamicamente. Con tassi di turn down fino al 71% l'offerta può corrispondere esattamente alla domanda. Inoltre vengono eliminati gli sbrechi di energia dovuti ai cicli di blow down e ai picchi di corrente all'avvio. In assoluto la scelta migliore quando i costi energetici futuri sono incerti. La scelta del recupero di calore è perfetta per il pre-riscaldamento dei sistemi di riscaldamento dell'acqua del sito o anche per processi produttivi specifici come la generazione di vapore. Con le attuali considerazioni sui costi energetici e sull'ambiente il recupero di calore è diventato un'opzione essenziale per la maggior parte delle nuove installazioni di aria compressa. La serie DX è controllata da un controller di facile utilizzo che offre una comunicazione semplice, dati operativi completi e una connettività web completa. La serie DX è inoltre dotata di serie di ICON, il servizio di monitoraggio intelligente e proattivo del sistema che fornisce dati approfonditi in tempo reale agli utenti dell'aria compressa. Evidenzia qualsiasi problema in via di sviluppo, consentendo una risoluzione appropriata e riducendo al minimo i tempi di inattività non pianificati. Inoltre, scegliendo un contratto di assistenza a SHORE che include un'estensione di garanzia, il vostro investimento è protetto. COMPARE dispone di una propria gamma di apparecchiature a valle e di un team di ingegneri di rete specializzati in grado di progettare e installare il vostro sistema di aria compressa dall'inizio alla fine. La nuova serie COMPARE DX, compressori d'aria raffreddati ad acqua o ad aria a velocità fissa o variabile, a due stadi, a vite rotante, senza olio. La migliore efficienza della categoria in un involucro moderno ed elegante. Grazie a tutti.